Sotto non credo, bisognerà passare sopra. Ma ce l'avevo detto che era ripido lì. Non c'è niente da fare ripido qua sotto, l'ho visto mentre venivo su. Gli avevo detto che era ripido. Non bisogna passare sopra, non c'è niente da fare. Sì, ma bisogna tornare sopra, sopra. No, qui non è cosa. No, perché c'è brecciolino. No, non va bene. No, possiamo fare la strada che abbiamo fatto venendo su. No, no, andiamo dall'altro lato, perché di là si scende bene. Qui non mi piace il sentiero. Perché mi sono saliti non mi piace. Io ho guardato mentre venivo da qua. Eh, purtroppo sì. A meno che non vuoi fare la strada che abbiamo fatto prima. Io ho fatto altri 50 metri di livello. Quello è quello che abbiamo fatto prima. Quello lì. Si può pure fare. Però non mi piace. Non mi piace proprio. E allora non resta che salire. Sì. Sì, ma appunto, gli dicevo quando stavo lì, io ho visto in quella direzione. Non mi sembrava non possibile passare lì. Non so, se vuoi ci basta. Tu puoi stare lì a guardare ogni passo, ogni sasso che tu vuoi. Vieni, vieni, saliamo fino su, va? Sì. Io ho un bambino a Natale. E senza età, quindi. E poi è una buona cucciola di roda. Che ci hai messo? Cappuccio? Antivento. Che esagerate. Però guarda che bello, guarda che bello. Guarda questo gruppo di alberi che bello. L'hanno spolpato proprio. Ma era un cavallo? Molto surveillance. Paghi. Paghi. Grazie a tutti. Guarda che bella, è bella questa piazza, non è bella? Vedi perché ha l'uncio lì da solo. Andiamo a vedere il laghetto. Andiamo a vedere il laghetto. Andiamo a vedere il laghetto. Andiamo a vedere il laghetto.